te l'ho detto metti schermettere 1080 io ce l'ho in finestra l'overlake di steam poi diventa stupido ditemi i volumi come sono perché io tipo qui la sento alta non so se la sentite alta anche voi comunque sono in 1280 è ancora muto il gioco giusto metti 1920 per 1080 che è l'ultima non c'ho ok no c'è il gioco è 0 ragazzi se avete il gioco intanto vi faccio le solite comunicazioni e servizi se avete il gioco venite a giocare con noi la prima partita vorremmo farla con ci sono due posti la prima con soppresse qualcun altro perché poi soppresse deve andare a dormire che è a scuola se nessuno ha niente il contrario vieni bigfoot bigfoot poi può venire anche lui vai vieni allora facciamo come l'altra volta chi vuole giocare si sposti nell'ultima stanza che non so se posso la stanza che non possiamo dire nome esatto la stanza che non possiamo minare la stanza dei ok esatto ci sono già tre persone dentro e poi non vi preleviamo e vi mettete d'accordo fra voi ecco l'avete spostato però vabbè pensavo dove sono andate loro due scusate vabbè vabbè facciamo con loro due la prima a questo giro facciamo poi mi raccomando ragazzi se avete gioco se volete giocare vi mettete in stanza e vi mettete d'accordo per i turni anche chi ha giocato eccetera intanto ciao bigfoot ciao soppri è proprio il dream team comunque ragazzi io non ho mai giocato per cui xd allora come funziona il gioco non me lo ricordo no nemmeno io ma chi se lo ricordo praticamente ci sono sei tizi in una mappa di cui due sono gli infetti è presente among guts ttt 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 solo che qui invece che sparare alle persone ti trasformi nel mostro quando è notte quando c'è il blackout perché un certo punto c'è un timer e c'è il blackout però c'è il blackout i mostri si possono trasformare e possono ammazzare gli innocenti e lo scopo di innocente ovviamente è trovare chi è l'infetto ucciderlo e eliminarlo oppure scappare però gli infetti possono trasformarsi solamente se hanno la carica al massimo come si caricano bevendo il sangue nelle sacche che stanno nella mappa il problema è che gli altri ti vedono bere quindi non devi farti vedere si sente anche il rumore devi stare attento in più ci sono dei task da fare per ottenere armi perk eccetera sì e i giocatori da innocenti possono essere eliminati cioè da innocenti da umani scusami possono essere eliminati solamente quando non c'è il blackout di giorno chiamiamolo giorno altrimenti se li uccidi di notte responano se vedi uno che beve una sacca di sangue tu lo dici agli altri esatto e se è convincente come cosa potete sparargli lui cade a terra a quel punto lo deve sparargli in tanti in tot non mi ricordo in quanti per votare che sono i voti per eliminare ah ok spari votare cioè voti sparando sparando solo di giorno di votare a terra sparandogli tot volta e poi devi dire agli altri di sparargli per votarlo ok col fatto che siamo tutti full è comodo per farla breve è ttt solo che gli assassini possono uccidere solo di notte e gli altri possono uccidere solamente di giorno di giorno ma se siamo in vocale tutti sì sì siamo tutti in vocale sì sì siamo tutti in vocale questo tipo ho freddissimo amici aiuto vai beh possiamo insertare no sono in serie vai facciamo una casuale perché siamo tre per dello stesso personaggio hanno cambiato il matchmaking ok 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 ora c'è un nuovo modo di votare ah ci può mettere il remote voting che è premendo v oppure il damage voting che è sparando fai il damage quindi dimentico tutto facciamo quello normale fai quello classico è molto carino l'idea di sparare a qualcuno per votare intanto salutiamo bigfoot e soffri che stanno in chat con noi vocale e scusate mi sono messa il cappuccio perché ho tanto freddo sono proprio io ma tanto non ce l'ho io non ti perdonerò mai per questa cosa ciao ma hanno cambiato tutto ma che è ciao ma c'è il tutorial ciao come c'è il tutorial no aspettate aspettate siamo tutti fermi inizia ah sì no mi dà una specie di tutorial che mi spiega come si fa ma ecco devo scorrerlo tutto e non posso neanche scorrere tutto insieme quindi dovete darmi un paio di secondi eugenio non vedo sub mi sto scherzando quanta ansia metti i dati ogni volta ma io non ho rubato Nina io ho il manganello io ho messo inizio i profitti perché ho il manganello io prendo a manganellate la gente ma it's Nina what ma it's Nina what ok i personaggi ho andato a prendere un colpo i personaggi hanno un nome e puoi chiamarli sia per nome sia descrivendoli sia con il nome di chi lo hazzo ovviamente descrivendoli ci rischia di fare cose poco etiche sì ecco quindi mi raccomando credo che in una apposta credo che in una live ci sia io che abbia urlato ecco sì non lo ridire no 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 per cortesia grazie nel senso è una cosa come è vestito Bigfoot ma come cazzo siamo vestiti ma perché la gente è vestita a caso no ragazzi io per me è Bigfoot sì anche io io voto subito ma io ho cambiato ma che è sta roba ah c'è una lobby iniziando presto signori niente però non ci ho mai vista sta roba noi ma random che cosa vuol dire ma dove lo vedi siamo alla CIA ciao Bigfoot ragazzi ma è terribile questa cosa sì poi ci sono otto posti noi siamo in sei ce ne sono due vuoti ah quindi hanno aumentato hanno aumentato no no ce ne erano intondo nel tavolo c'erano otto posti non so che sono otto nella lobby ok andiamo ragazzi c'è scritto innocente hanno cambiato anche la UI ciao Alicia com'è ma cosa come faccio correre ah così ah questi sono i fusibili soppri hanno cambiato allora ecco spiegami questa roba sono le task praticamente qui bisogna essere in due uno che ti alza la pedale ah ok sì anche tu ok l'altro prende questo qui è l'antidoto e praticamente quando uno viene morso dal mostro gli spara l'antidoto e lo risuscita però io posso spararmi da solo l'antidoto non so se ho l'antidoto no 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 posso sapere chiudarle poi un altro devi spararti l'antidoto esatto esatto ma che sono queste cose qua per terra ma che è stato non lo so hanno cambiato tutto soppri premi luce items 4 premi un attimo sulla sacca di sangue per favore hanno aggiunto le trappole credo aspettate aspettate o tipo delle tasche in filabonga vabbè continuate a prendere no non preme non preme vai Dado praticamente quando c'è il blackout bisognerà accogliere i fusibili per far spegnere blackout per far passare il blackout ok ovviamente si sgamano presto i cosi perché non lo faranno mai oppure lo fanno come alibi ah ok e quindi cioè sì però io adesso ho fissato un fusibile è un po' spettino eh sì sì l'ho fatto vedere anche a soppri prima non posso bere sono stato qui fermo davanti mezz'ora di solito apparivano solo nei blackout i fusibili no ora ci sono queste colonnine ma lo diceva sia a me che a soppri che tipo puoi ridurci il tempo di giorno me l'ha detto soppri no 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 non farlo no ovvio che l'ho beccata una ma non c'è non è conveniente ovvio che non lo faccio no direi di no a me ragazzi motion sickness che mi dà ma che se lo fosti sì eh hanno ma che no sto capendo si hanno cambiato un bel po' di cose e da questo lato veniva da questo lato veniva squeeze e marco se non sbaglio da di qua prima no allora io ho incontrato prima squeeze e poi marco però marco è l'ultimo che è venuto mi hai dato l'antidoto ragazzi si parla di nuovo su un po' ammazzo tutti nel gioco nel gioco dicevo l'antidoto ce l'ho io questo che spara cioè mi dice di sparare lì ok si ah sti pensando fosse Biggie aspetta voglio anche provare questo cosa si fa? c'è un tiro al bersaglio come cazzo shot di disattiva vabbè ottenendo energia ah ora bisogna stare sull'energia non prendere così Biggie chi è Nina? io sono con ok marco mi sa no sono io ciao Alice ma è già notte? credo qualcuno sia morto ragazzi qua c'è il colpo di Biggie no ragazzi Alice si è trasformata Alice? come si fa ad ammazzare scusami? Alice? ok ma lo dici anche capito? eh vabbè credo tu l'abbia scamata eh ormai me l'hai detto scusami lui hai detto Alice si è trasformata quindi tanto vado ragazzi una cosa ma perché sono respawnato? sei respawnato? ma ammazzato Alice ma che è diventato questo gioco? non mi sapevo non mi dovevo te dirlo avevo l'antidoto ma ce l'ho ancora? ma io non avevo l'antidoto eh no io non ci sto più capendo niente non lo so no ragazzi ha cambiato tutto quanto ma che vuol dire? ma perché sei rispetto? perché sei rispetto? qualcuno è morto? ma ora si passa da un piano all'altro così ottimo allora io prima sono i cove agli altri piani io ho soppri no alza soppri ho il chitto di indagine soppri ma ti sei trasformato prima ma che cosa vuoi? ma non ti sei sottosato soppri era squee erano squee e bigfoot sì io ci sto capendo più il cazzo ragazzi ma proprio zero sì no anch'io io non ho capito se volete se non volete vomitare c'è movimento fluido nelle opzioni che però non fa nulla quindi non so opzioni? no no è il motion blur quello lì non lo metto fin entri? ma no no ragazzi ma io sto veramente per sbrattare molissimo sì sì abbastanza come corri scusami io non sto capendo che è successo a questo gioco sinceramente no nemmeno io hanno cambiato un sacco di roba no cosa ho fatto io? adesso è una merda più che altro comunque allora io credo qui sappiamo è squee l'altro dovrebbe essere bigfoot perché nel senso è dato è risponato ok Marco non è perché ci sono stato tutto il tempo sappiamo che ha lì allora è bigfoot ma qui aspetta ma perché non stiamo eliminando Alice scusate perché non la sto trovando eccola eccola qua ma guarda votate votate io stavo ero in silenzio però nessuno mi stava dicendo niente quindi sì sì no è vero sono andato in giro a sabotare a bere che sangue ma perché sono stannato dalla merda che hanno reso questo gioco ma qui adesso c'è un'energia ma è terribile sì lo so Marco è facilissimo adesso sì no infatti ma il fatto che si respawna qualcuno vede bigfoot io ho visto te non puoi neanche più morire con il gas adesso ciao Tato no ma è anche perché ma infatti devo ancora capire com'è che si roleplaya cioè nel senso c'è ad esempio come su come quando uno muore non parla quando uno muore non parla però non muore però neanche mentre viene attaccato eh non me la ricordo questa cosa qui tecnicamente non non te la disabilitavano lasciato vocare quindi tecnicamente potevi farlo però non ha senso però non ha senso perché su TTT quando tu sei in fight non puoi parlare sicuramente si fanno le stesse regole TTT e non si parla e via sì 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 però con il fatto però ragazzi con il fatto che si respona è inutile questa cosa qui Luca vieni qua da me che sapore quello è vero cioè posso responare direi guarda è stata lice tipo ho attivato qualcosa grazie se vuoi ti do una trappola Luca è infetto Luca è infetto non ci voglio credere che cazzo ero fregato no ragazzi è diventato veramente una merda questo scioglio mamma mia no allora io vi posso confermare però che Bigfoot l'ha ucciso e lui non è respawnato no no non è che si respawna è che qualcuno era terra sanguinante ed è stato tirato su no no a me nessuno ha mai tirato su solo nessuno su due volte allora non era finito non era finito il cooldown nel sanguinamento tipo il mosso non ti aveva ucciso definitivamente io Bigfoot l'ho ucciso all'istante a me ha finito il tempo e non mi ha respawnato ma che vuole e poi tipo e poi quando quando è notte non si parla perché anche tipo ti compare scritto sullo schermo chat mutata ok quindi la notte non si parla vabbè se vi capita un urlo ok nel senso ma perché siamo ancora esatto perché siamo ancora giocando io ragazzi sono molto destabilizzato non ci sto capendo un cazzo capirci un cazzo quanto ora io sto veramente mettiti poi i movimenti fluidi come ha detto non è quello quello lì è il motion blur ancora peggio ma io che vado da Luca oh Luca ma che cosa vuol dire cioè era chiaro che era sconfitta sì però comunque devi uscire devo comunque uscire perché ho capito ma scopri che è stato bravo a accusare Luca allora facciamo un attimo di urdi prima di cercarne un'altra allora è diventato una merda sì è molto cambiato sì è diventato una merda sì punto era così bello questo ma vero quanti cazzo è tutto allora notte quando c'è blackout ci si muta sì ma secondo me non ha senso mutarsi durante il blackout eh sì perché te la ragazzi quanti fai di DT grazie attimo l'ho lasciato quindi è giusto tecnicamente posso mettere l'opzione che di notte siamo anonimi nel senso che nessuno può vedere chi è qualcuno quella c'era già c'era infatti abbiamo chiesto chi è lina non c'è no no perché io vedevo chi era Dado stavo uccidendo Dado in modo io vedevo che era lì c'era lì l'ho messo off e ora è on poi mettila off cioè nel senso che non si vedono giusto per rendere un pochino più avvincente perché questa che è stata davvero una merda Luca sì 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 a sto punto veramente si passa su Among Us vabbè proviamo a farne un altro vediamo comunque queste cose qua no allora una cosa che io voglio dire io ho ucciso domanda qui quando ti ha ucciso Dado ha fatto un'animazione quando l'hai ucciso allora io non riuscivo a capire come allora mi sono trasformata davanti a lui e lui non ha detto niente quindi ero conscia di andare a shottarlo li stavo andando vicino ho semplicemente premuto il tasto sinistro e gli ha dato due graffi prima che lui cadesse a terra e sanguinasse però non stava morendo allora io ho una teoria io Bigfoot mi sono trasformato ero dietro di lui ho premuto il sinistro una volta ha fatto l'animazione e l'ha ucciso e poi mi è entrato in cooldown quindi secondo me va fatto da dietro quando sei davanti li puoi solo atterrare col tasto destro hai l'altra abilità del mostro quello base all'estero mi hai atterrato comunque perché potevano arrestarmi ok perché ho trovato Bigfoot ok ma vedi ma allora che cazzo non lo so non lo so davvero che cazzo boh facciamo dai riproviamo riproviamo sempre noi ma poi qualcuno si trova dove è schermata vedete uscire dal repito ragazzi che differenza c'è tra il lo yeti e il mostro normale il tasto destro il tasto destro è un'abilità unica con il mostro normale fai una copia e lo yeti non ne ho idea io ero il mostro normale ok ok siete tutti usciti dal repilogo sì 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 ok coda casuale oh ragazzi no non lo so è diventato non è diventato SS ma proprio per niente cazzo SS era bellissimo magari SS ma l'hanno chiuso definitivamente l'hanno chiuso definitivamente Luca due anni fa ma avevo capito che comunque l'avessero riaperto ma ognuno si ostava ai propri server no no è durato una settimana peccato no Gatto è stato in lutto infatti per questa cosa sì Gatto ci viveva un sacco in Battle Royale e poi via mamma mia SS era bellissimo ma c'era un sacco di giocatori eh facciamo un BR dai mi raccomandoci si muta di notte giusto cioè ci sono due posti liberi corrispondere iniziale eh ragazzi io però no non ho un tasto veloce per mutarmi da volta a bar ogni volta vabbè non parlate non parlate non si parla neanche io posso non parlatevi e comunque quella cosa dei fusibili credo che letteralmente togli 30 secondi a quando scade la notte sì sì io ho tolto un sacco di 30 secondi perché mentre mi stavate ignorando tutti sapevate che ero cattiva è stato molto divertente allora questa roba cos'è? cosa? è la roba per terra sono credo i nuovi fusibili eh ma come faccio a prenderlo io? no non lo prendi ma che cazzo? cioè di notte si attiva i denti che cazzo di spavento i mostri sulle sedie conquistarlo esatto è diventato l'allarme di gtfo senza Samantha sì ma ragazzi ma anche io che sono buona posso sì 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 ah ok non lo so non lo so non lo so possono giucciare il sangue? no 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 i fusibili possono diminuire il tempo di giorno perché? vabbè ha senso ha senso così cioè antisgamo almeno se lo possono fare solo alcuni nel senso ragazzi Luca l'antidoto se non lo usa su di voi ammazzatelo a cosa serviva precisamente? rianimo qualcuno vero? eh prima sì ora ok sì sì no adesso ok ragazzi qui hanno bevuto e veniva Marco da qui ok era solo Marco ma c'è anche lì qualcuno qui dentro ma è soppi accanto a me perché qua da me eh appunto c'eravate voi due in sta zona quindi però ok che lag sto mancando in un modo ecco pure il gioco ok io ho l'antidoto se ti serve e vieni con me se ne ho ottimizzato malissimo dove siete? intanto ho la fotogamera ok ma ecco io cercavi qua le sacche già bevute no io ero entrato qua ho visto che erano delle sacche ho detto fammi uscire prima che mi veda qualcuno it's nina guys it's nina it's nina what? it's nina what? era ma it's nina what? lascia me? ma non prendere tutto te lasciami qualcosa che cazzo ragazzi sono one shot Marco perché sei one shot? è caduto perché sei caduto? sei caduto qua sopra effettivamente oh grazia nice che cos'è sto cosa? ciao Alice qua c'è andate due sacche già bevute ne sai qualcosa? eh no te lo sto chiedendo io a te scusa mi dà non mi sto venendo dall'altra parte ma scusa no ma tu sei venuto da questa parte dove c'è anche me da dove sei tu ok uh zitti ciao wonderful ciao ciao ok ma in che senso scusate quindi sono stato atterrato tre volte chi è morto quindi? qualcuno è vivo? qualcuno è morto io sono stato atterrato tre volte sono rianimata tre volte stavo per ammazzare un tizio che però è stato rianimato allora sono morti penso Bigfoot e soppressa ok che non posso parlare no no io sono qua io sono qua ah ok allora è morto Bigfoot ok sì esatto però io non mi so orientare nella mappa c'è uno dovrebbe sapere no ma la mappa è nuova è nuova però bisogna sapere dove nella mappa sono uccisi io non ci sto capendo un cazzo io non sto trovando niente no a parte quello non ho scattato nessun perk da fare qua ragazzi c'è un coso da alzare ma guarda quanti in altri manco c'ho un mio oh chi ha sparato? io perché pensavo che no c'ho una sfida io sto facendo se senti però che il mirino ha fatto malissimo non si prende no devi prendere prima quello illuminato dice perché muni stai d'anti ragazzi ragazzi luca ha sabotato il fusibile no no non è vero non è vero c'era solo luca qua no io sto facendo la sfida non sono stato io venite qua a votare luca ve lo giuro dove siete no ma scusate un attimo sarei davvero rimasto lì se avessi fatte cose te lo posso giurare stavo facendo la sfida non sono stato io ma dove siete? abbiamo votato luca si però dato sei suspicious così eh è ok ma bigfoot era con me l'ha visto che già fumava sto coso eh tu hai bigfoot qua c'è una sacca bevuta e ha sabotato pure anche qua c'è una sacca bevuta eh luca era in questa zona qui fermo anche voi eravate tutti in questa zona qui però no no io si veniva da lì adesso da lì da dove sei venuto a te io ero convinto infatti che io ho fatto un strumento di indagine ma non capisco come si usa lo devi usare su qualcuno per vedere se è infetto oppure no eh puntalo puntalo su marco l'avevo puntato su ok dado è innocente posso usare solo una volta cazzo ne avrei fatto su marco da sto punto ah questa qui è liscia dietro ciao e là ah già ma bisogna mutarsi mi dovrei essere mutato sul discord che non mi sentono ora lì qualcuno l'ha ucciso quello caduto a terra lì è proprio morto e ora lui credo ne possa atterrare un altro e basta non posso uccidere no gli sta sta facendo una straccia marco nice parlo perché sennò questi momenti di silenzio e comunque io vi assicuro non avevo fatto nulla lì non avevo veramente fatto nulla e ora l'ha alterrato e basta per quale motivo quanto è fatto male sto gioco quanto è veramente chi è sopra non si può vedere chi è vivo chi è morto ok cambio zona no allora allora cosa che non va no allora c'è qualcosa che non va non possono essere in due Bigfoot è innocente gli altri due sono cose però chi è morto io sono vivo marco sei tu ma a me mi hai risponduto pure in faccia davanti quello due volte che cazzo posso essere mi sono marco marco sono senza colpi di pistola non ci credo sono senza colpi di pistola facco provava anche a difendersi capito facco no sono senza munizioni dove cazzo si prendono munizioni dove sono in giro in giro un paio di palle la cosa è che penso non potete buttarvi fuori servono due voti semplicemente appena viene la notte lui ha tutto il tempo del mondo per uccidere te devi scappare ma dove sono le munizioni terra e comunque ma non ci sono io ti giuro io lì non ero non ho fatto niente in quella zona lì comunque ragazzi è impossibile qualcuno però ero io però io lì non ho fatto nulla è stata colpa di Marco soppi è stato benissimo bella la sacca di sangue bella ma sì siamo rimasti voi due è ovvio che è Marco ho capito ma come si scappa adesso devi aspettare la notte senza che Marco ti veda no ma comunque devo aspettare la notte mi sa non mi chiederò mai più di Luca sono pensato bellissimo perché letteralmente mi fa dove sei Luca io mi trasformo davanti e lo mangio ciao Sora comunque sì l'hanno peggiorato tantissimo ma cosa vuol dire Marco ma ti begga veramente io a parte tutto switcherei su Among Us dopo questa perché non so fa veramente schifo il genere è quello e questo mi sta veramente facendo schifo siamo tutti d'accordo ragazzi Marco che svegli è qui sono senza munizioni fuck off madonna santissima io non ce la posso fare no quanto è fatto ragazzi faccio allora voi della Lex siete tutti d'accordo switcherei su Among Us Alice Marco ma sì anche in chat stanno esprimendo sì sì vengono un gas certo siete gli unici in Italia che state portando il gioco questo gioco parlate tanto siete voi due è ufficialmente morto questo gioco ragazzi di sit mamma mia che peccato però era bello era bello era bello ciao Alice Alice girati ciao Marco ciao Isa ciao mi ho fatto riderissimo prima che mi avete sparato mi avete ucciso e mi sono risparato in faccia e ho ucciso qualcuno a me sì eravamo io e Bigfoot eravamo io e Bigfoot però io ero senza colpi cioè sono rimasta in quel momento senza colpi renditi conto basta basta ora vedete Luca c'è la copertura del codice inviamo un'immagine random metterò quella bene ragazzi no non proprio da gestici no vabbè metto un'immagine ah ragazzi perché si fosse collegato adesso switchiamo su Among Us perché quel gioco è morto ora appena vi catturo un attimo un gas state vedendo schermo nero non sono stato a switchare cosa Luca mettici beh dai io riesco e cedo il posto a qualcuno che è Among Us non ce l'ho ah intanto c'è sul telefono è gratis sul telefono c'ho il telefono che è lontano e scarico ma non rompa i cuori Bigfoot Bigfoot dai non fare il pigro ho fatto mezz'ora cedo il posto a qualcuno alzi il culo non fare il pigro non fare il pigro comunque vabbè mettetevi su e poi vi si chiama in live quando è si infatti via ti ho mandato un'immagine Among Us è gratis col Game Pass ma davvero? si Among Us è gratis col Game Pass non so se anche su PC no non metto su PC e Switch ma ragazzi ho finalmente l'audio del gioco allora comunque creo la partita oh c'ho ancora Nord America mi raccomando ragazzi se vi unite Nord America vi mando il codice su mettiamo questa Luca oscura la finestra quando mette il codice e poi vi si vi si fa vedere perché è tagliata? vi si fa vedere quando siamo tutti dentro ho mandato il codice non so perché inizia al fondo bianco ma mi torna benissimo che abbia il fondo bianco sta qui ovviamente precedenza e sub come sempre ma allora avete cambiato la Carlo il no ora cambio tutto faccio io faccio io intanto io entro allora l'immagine coprano il codice della lobby Carlo stiamo parlando proprio a te ciao Carlo un saluto ci segue sempre un fan un fan un fan siamo da fondatore Carlo si un attimo solo che ora vi faccio vedere tutto ciao ciao c'è un problema me l'ha avviato sull'altro schermo aspettate i problemi dei borghesi Alice 50 euro te lo fai uno schermo posso far vedere il codice ragazzi mi raccomando venite venite anche in vocale poi se venite a giocare anche perciata spiaccicata siete nella stanza giù l'ultima stanza e poi mi si sposta no ho levato la cosa sbagliata questo è il codice che fatica parlare stasera bimbi siamo attorno a dato e cantiamo una canzone siamo attorno a dato e cantiamo una canzone mi raccomando ragazzi nordamerica non fate i luca ma siete quello che non sa mettere Europa che cazzo c'è lei che canta eh 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 pizzo con EU eh va bene è Franco spostiamo Genio e uno noi siamo attorno a Pizzo e cantiamo una canzone vieni vieni sì 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 ma anche Bigfoot vieni prendi il telefono un attimo dai Bigfoot non fare la fama dai venite venite una canzone come on come on come on ragazzi abbiamo 5 posti liberi un posto verrà occupato da Abbone vero Abbone uno da Hank vero Hank da Hank non credo ce l'abbia proprio ma esiste il telefono per te ricordo c'è anche Isa c'è anche Zappo che ce l'ha c'è anche TV per fortesia scaricatelo sul telefono credo soppi ora volete e non mi piace il gioco non mi interessa venite uguale con noi ci si diverte c'è ancora quasi una cosa no a parte tutto non c'è tanto da parlare quindi nel senso puoi benissimo venire puoi smutarti solamente nei cosi esatto solo quando devi parlare no 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 una notte d'Arabbone no amici non intateci questa ragazzi non fate come al solito dai ma è quello il bello tanto anche Dado non sa giocare a questo gioco ma che cazzo i giochi dove devi giustificare le tue azioni mi stressano lo portavamo Valorant solo che da un sacco di problemi da lì c'è l'aggam e da cali di fps importantissimi e poi oggettivamente no a te non mi piace no sì cioè piuttosto che l'fps giochiamo parecchio Rainbow Six Hunt e che altro fps vi ho giocato abbiamo portato Code Warzone se ti interessa Code è molto bello Isa di Sasso che bel nome Isa di Sasso viene nella stanza più in basso e ti si sposta nella stanza di Cassari nella stanza che non possiamo nominare ma poi in quella stanza vedo Artyom e Sopri Artyom su Artyom e Sopri quando vi muovete ecco Artyom che lo prelevo Artyom non so io anche me adesso lo scrivo lo scrivo Artyom un po' colpa mia se sei nominato Eila buonasera 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 ragazzi chi è JD chi sei identificati identificati 5 secondi per identificarti ma è JD di Scrubs 1 2 sono io 3 bigfoot bigfoot mamma mia scrivi prima bigfoot e poi se infatti mettiti un nome che non ci faccia il mio nome sono io te sto per chiccare e qui si che vuoi far ridere chi sei tu sono io che vuol dire sono io quando ci topponi a casa dicono esatto sono io ma soppresso vuole venire oppure vuole stare su per il resto della sua vita io la lo prelevo senti la dover le matto cia soppri eccola 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 si starta con 9 qualcuno altro non vè startiamo con 9 in caso si aggiunzi qualcuno dopo pinguzza stai facendo di la cacca addosso se qualcuno c'è come affacculo non c'è carlo comunque stasera non è passato a trovare stasera a me manca carlo stasera a me mi Alice io adesso sbatterò il pisello sulla scrivania almeno carlo sa l'italiano tutti muti tutti muti cosa soffri mi sono mutato wait si ok storia uh c'ho la canzone madbay andiamoci subito se magari qualcuno mi può confermare se no aspettiamo uh eugenio 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 allora aspetto tanto questa dovrò tornare dopo ah ovviamente ecco in chat non scrivete cose ora nessuno dovrebbe starla leggendo degli altri in partita ma evitate di scrivere cose tipo oh no è lui oh no ciao quanto cazzo ci stava mettendo sopra io c'ho qualcuno fuori da nav che ora mi uccide ah più che altro oh ciao squ oh mi sono mutato per errore allora il gioco io no no cosa ah si sono mutato allora l'ho trovato nella stanza eeeh allora storage communication si chiama quella squ ti ho visto entrare ti ho letteralmente visto entrare in quella stanza quando hai trovato il corpo siamo arrivati lì insieme ok è quella lì io ero totalmente a sinistra poi sono andata a svuotare il il cestino nella storage e poi sono entrata in quella stanza lì e effe quindi non ho visto nessuno io non ho incontrato nessuno eh io io ero in navigation sono sceso cioè ero a fare l'oxygen con tutta la gente vado in navigation scendo da shield vedo squeak che si aggira entra in quella stanza entra in quella stanza c'era il corpo di dado però mi sembrava tutto troppo veloce per essere stata squeak effettivamente ero veramente io posso scagionare isa perché ho visto isa dove si fa la quest dove si passa la carte a weapons e poi ho visto anche big che stava passando tornando indietro dalla dall'estrema destra è abbastanza in alto io ho visto soppuri che era a est allora io qui direi che si schippa non abbiamo tante fornuzioni se qualcuno ma anche tutti potete seguirmi ho la scansione in madbay io voto luca io ho la scansione in madbay che mi posso auto votando luca no schippate sono innocente ma guarda che ora vengo buttato fuori stupidi eh sì perché sto avendo dei problemi oggi seguitemi in madbay ora qualcuno tanto non lo faranno però guardali tutti guardali tutti se non ci sono i visual scattivi rido rido sei traditore c'è anche da fare questo wait ok chi è chi è chi è dei due chi è dei due ok bigfoot bigfoot ok quindi bigfoot siamo safe io sto con lui forse non hai capito io non mi muovo più da lui ci devono fare una double oh oh ok dove dove eh quello dove si fa l'allineamento giù non so come si chiama vabbè il motore è quello in basso lower engine credo sì lower engine sì 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 allora io ero con Artyom poi bigfoot ha fatto anche lui la scansione quindi non è lui io quando ho visto scansionare ho detto vabbè non ho la task qui me ne vado sono andata verso navigation e ho fatto le quest a destra per cui non ho visto nient'altro ok comunque allora io per questa kill posso scansionare anche Artyom oltre vabbè bigfoot so che è innocente sì grazie per il follo c'era ancora c'era ancora Isa Luca a parte l'inizio qualcuno viene con me siamo andati praticamente tutti tutti mi hanno scagionato perfetto io sono safe però più di altro sai cos'è all'inizio si è fatta avanti tanta gente ma se n'è andato subito qualcuno la cosa lì era vabbè io me ne sono cioè ve lo dico io me ne sono andata perché eravamo tutti lì e ho avuto le quest in navigation non aveva senso che io fossi lì cioè io me ne sono andato ad admin e sto facendo il task ad admin quale task? quello là dell'upload ok ok a me l'unico che aveva visto fare la quest cioè che mi aveva visto fare la quest insomma stavo lì a fare l'allineamento era soppri però ho visto Artyom da quelle parti mentre andavo a fare quello top sì sì io sono entrato dentro il primo motore ho fatto la quest quella di allineare e poi subito dopo è stato trovato il body ma io so per se non l'ho visto scendere boh io non ne ho idea onestamente io sono sempre direttamente opposto dove la scena del crimine boh io schipperei ancora è tanto nel senso io so oddio ciao Yuri è stato squizio il salone con il candelabro certo va bene voto squizio allora chi è che c'è di possibile sospetto che potrebbe nessuno ma poi io non riesco a incontrare nessuno cioè io o adesso vi seguo però per me sono sospetti tutti tranne Artyom e Bigfoot ora come ora per questa kill Artyom non lo posso non posso dire che è innocente Bigfoot sì Eugenio devi votare ah no tanto finisce mi si è buggato comunque mi piace che la gente continui a votare me che mi avete visto mi piace Luca che tu abbia votato me grazie quindi che cazzo ti lamenti chi ti dice che sono stato io a votarti che cazzo ti lamenti lei appena detto Yuri voto Alice sì ok voto speravo non l'avessi sentito quanto si era buggato ok credo sì si è mutato io ho paura mi uccidano tantissimo eh secondo me è un genio secondo me è tipo tantissimo genio dov'è il mio Bicchi dov'è Bigfoot oh che mi si crina oh è Marco Marco fa tantissimo gli auto gli auto report quindi potrebbe davvero essere lui io qui ci muoio perché tanto qui dietro bravo Luca e lo so Yuri dove adesso ho visto le persone chi allora Isa era in navigation sì fai dire dove è il corpo fermi tutti fermi tutti fermi tutti è stato 100% Marco cioè ho visto ho visto il corpo e Marco appena sotto ok io ero nella stanza giù di sotto però io posso dov'è il corpo io ho visto il corpo appena sotto il corpo ad est non mi ricordo come si chiama quello dei controlli della nave è navigation e io ho fatto i corridoi davanti a navigation Marco lì infatti io ho visto io ho fatto aspetta io avevo visto lì in quella zona lì Isa Bigfoot e Marco che continuavano a girarsi poi sono scesa perché stavo andando verso storage verso il basso e poi è stato riportato il corpo quindi eravate tutti lì per me siete tutti Bigfoot lo posso creare io Bigfoot lo posso creare io perché è l'altro che ha fatto la scan io e lui eravamo le due scan posso levare dai sospetti forse Eugenio perché l'ho visto mentre andavo a prendere la benzina poi sono andato e lo era grazie per i tuoi follow grazie io ho fatto le quest lì per cui non lo so potrebbe essere cioè casualmente sono ancora vivo per cui sì ok però ok però anche io ho fatto le quest nel senso perché voi mi state scagionando tutti le vicende tanto perché io non sono stata con voi no 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 io sto scagionando solo Bigfoot ti ho visto per due secondi e infatti però che folle comunque nel senso Marco qual è stato il tuo ultimo task eh il mio ultimo task è quello delle luci delle luci che devo collegare i fili dove? giù nella stanza giù a sud come si chiama? beta communications communications sì quella dei cavi che devono essere collegati con gli stessi simboli ci sono mai entri nella stanza non la quest ah communications e poi sono andato ma che parte ti sei andato perché io Marco ti ho visto lì intorno a navigation e poi io sono scesa e sono scesa da sola sei andato da sopra o da sotto da dove? da sotto sono postato prima a shields mi sono fermato là e poi sono andato a communications comunque io lo dico o è Squeezy che sta giocando molto bene o è Marco che prima ok allora potrebbe essere Marco Marco è molto safe probabilmente è Marco perché cioè io sono scesa da sola cazzo o è o è l'altro potrebbe essere squisi ma non so per chi dovrebbe accusare Marco o sta giocando molto bene se non è Marco abbiamo perso ve lo dico perché basta una kill e abbiamo perso sono abbastanza sicuro che non si sia buttato fuori nessun altro tutti muti dove è il mio mouse? qua eh Bigfoot mi sta deve stare vicino ci dobbiamo dividere merda 1 8 1 8 6 7 7 Bigfoot 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 nessuno sta facendo sopra Bigfoot l'ossigeno non c'è nessuno stupido 1 8 6 7 7 manca Eugenio io butterei un pulsante se Eugenio è morto è squisi eh no ho buttato il pulsante perché se era morto Eugenio era squisi per perché lo andavamo tutti insieme noi eh niente era era una prova grazie un attimo un attimo aspetta aspetta un secondo eravamo prima all'inizio tempo fa eravamo in Mad Bay abbiamo visto che io Luca abbiamo fatto tutti e due la quest e quindi per forza noi due non siamo Arti o'era con noi e mentre Arti o'era con noi è stato ucciso qualcuno poi se Arti o'era e Luca si corrono per Eugenio voglio dire che Eugenio il quarto non è se rimane solo squisi fuori no no io non assicuro Eugenio calma infatti è per questo stavo dicendo prima Bigfoot che mi stavo incazzando perché io ho facevo le mie quest lontano dalle persone e quindi è chiaro che voi non potete garantire per me e io non posso garantire per voi io voglio fare una domanda però l'unica cosa che Arti mi ha detto riguardo Eugenio è che faceva le quest con lui ho capito comunque allora io l'ho visto dove stavo andando a fare le quest io l'ho visto semplicemente in storage mentre andavo a prendere la benzina potrebbe essere anche lui perché adesso in questo round non l'ho visto neanche per mezzo secondo sì ma quello è vero anche te e Luca e quant'altro perché poi siamo andati a fixare la corrente però anche io da l'altra parte cioè io ero tipo da sinistra in upper engine e sono corso verso il cos'è che era era cosato vabbè ti abbiamo visto quello sì noi non abbiamo proprio io vorrei chiedere innanzitutto Bigfoot perché ti sei firmata a weapons no perché i controlli del telefono sono una cosa indegna ah ok 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 questo posso dirlo anch'io poi il fatto che non abbiamo ancora perso direi che Marco lo era perché sennò bastava una kill e l'abbiamo perso e l'impostore avrebbe lasciato la kill e non l'ha fatto non lo so potrebbe essere Eugenio ma sono ancora vivo però potrebbe tenermi in vita giusto per creare però ci sono anche qui down no dico potrebbe potrebbe crearsi un alibi cercando di non uccidermi però no ma schippate questo pulsante era proprio questo pulsante l'avevo tirato proprio perché se era morto Eugenio eravamo sicuri fosse Squee semplicemente giusto perché ti piace spaccare il tempo degli altri esatto e Bigfoot soprattutto è il tuo sì sospetto è proprio Squee non lo so sarò sincero dove è Bigfoot Bigfoot vieni con me Bigfoot 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 Senti io vado di qua mmm c'è Eugenio Bigfoot 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 no le luci no Bigfoot non voglio andare a luci il fatto è se trovavo morto l'altro e coso che cazzo fa Bigfoot gli anni per far sta cosa dal telefono Eugenio vai a luci te vai 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 ok allora nel senso siamo stati con Bigfoot e Luca a danzare tutto il tempo quindi io direi che Alice cioè Bigfoot è stato mezz'ora a fare un task e io e Eugenio che lo guardavamo tipo quanto ci metti non riuscivo a farlo partire ho notato io stavo cercando di capire che stessi facendo Bigfoot e poi stavo cercando di convincere Luca a andare in Erecto no io non mi fidavo di te è questo il problema ma io non mi fidavo ma che palle ero come in un angolino di cargo comunque con che cazzo di stiga ammazzo Issa in quell'esatto momento passa a Bigfoot ma ti sta bene no io sono morto della serie ma la faccio fare questa quest io stavo giocando da Dio no stavo giocando da Dio Alice tu stavi giocando beata te da Dato stavo giocando da Dio no e poi questi qua coglioni si mettono a danzare l'uno con l'altro e non trovo nessuno l'unico che arriva a fixare le light io ero lì da aspettare in Electrical l'unico che arriva è Artyom vabbè lo killo e scappo dalla venta no ma cosa va eravamo ditemi che qualcuno ha clippato i due coglioni che stavano ballando perché dopo voglio andarlo a guai no eravamo semplicemente noi che si facevano su e giù comunque qualcuno della chat vuol venire ma a sto punto siamo sempre noi quindi non so credo ci sia no se ne va soppri ce ne sono due posti credo perché manca il genio solamente per i sub usciamo poi rientriamo no no state state ragazzi ragazzi abbiamo due posti venite per favore solamente per i sub o per i follower che ci seguono da tanto beh finché vi decidete io vado in bagno arrivo I can ciccio ciccio aspetta levo levo la gif Luca mi concedi questo ballo mi raccomando ragazzi solamente sub o il tablet a zero attaccalo attaccalo ma la mette in carica ma che cazzo esatto ciccio valla a mettere in carica subito dai in una caverna su dai la caverna cavernosa e ringrazio che ho detto cavernosa Luca Luca scrivi in chat di gioco secondo me staccato ragazzi un po' di bella storia è che la squadra del se dovrà chiamare in un altro modo rispetto alla caverna cavernosa solo che abbiamo deciso di streamarlo quindi abbiamo dovuto cambiare no non c'è il tra un po' vieni è attaccato com'è attaccato dai vieni Yuri anche te se vuoi Fabione Fabione vieni eh vieni Fabio sì ma non è condo ma è condo quasi scusate lo scrivo sul gruppo dei sub scusate ce l'abbiamo ma che vuol dire come dice il gruppo dei sub Luca scusami no 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 questo qui ha senso ma cosa scrivo nel gruppo dei sub che abbiamo switcho su Among Us si Fabio avvia di sit bravissimo Fabio Fabio l'inconfondibile grafica 2D di sit sei fortissimo Fabio beh però potrebbe dire che qui almeno le cose funzionano e si capiscono ragazzi posso giocare a Among Us con la tavoletta grafica sì credo di sì perché non stavi giocando con la tavoletta grafica scusa no però una volta voglio ultimare una partita di lol con la tavoletta grafica io stavo facendo stavo giocando con la chitarra di Gitar Hero io eh Marco si fa una partita a quel modo con la chitarra di Gitar Hero e con la tavoletta grafica no ciccio è all'1% l'accento sperando non si spiega in 3 secondi beat game va bene va bene se ti vediamo crashare è per quello ho sbagliato bravissimo beh puoi giocare di uno si può sì anche te Gemmo mi domanda è muoviti non è che si può si deve Gemmo Gemmo ci sono io dai muoviti ha un po' di un po' di voglia di vivere su spostatevi sempre nella stanza sotto l'ultima stanza quella con il nome che non possiamo dire in live così almeno lo capite la stanza dei pidocchi Pippo se vuoi venire anche te nel senso tanto sarei sempre il primo a venire ucciso lo sai lo so io non ti preoccupare no 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 quando c'è Pippo e Pippo la volta che Pippo non muore per primo è lui dall'impostore cioè ha sempre funzionato allora ragazzi chi si vuole unire mi raccomando server nordamericano sì il codice lo state vedendo venite sul discord nella stanza in fondo se vi chiedete perché siamo in nordamerica è perché in nordamerica la gente è più scarsa quindi noi sì esatto come proprio se siete dieci aspetta un po' se entra anche Gemmo si può aspettare siamo dieci no no posso posso uscire io che tanto ho fatto anche no lui credo che non per il fatto che ha un per cento di batteria beh guarda Bigfoot alla prossima lascia il posto però per ora puoi restare ok nemmeno qui e Marco hanno perso tutti gli oggetti ma perché credo che fosse una battuta per il fatto che Gemmo non aveva nulla addosso Marco quelle quelle foto te le mando solo a te ma ecco perché che non mi muovevo ragazzi ssa ssa e Marco Marco che non si muoveva basta ma scrive ecco eccolo Anzio il Sava ciao Zeno la stanza e poi ti si sposta giù si ricopri il codice Marco sei un meme Zenet siamo in 7 meme come no non ho capito il 7 però buonasera streamers ciao dai ragazzi startiamo Fabione tu sai come si gioca yup a posto mutatevi vai non mi sta partendo ok partita in ritardo no è il crashatore rifacciamo che bello la live proprio maledetta questa rifaccio la stanza Dado vuoi provare un'altra mappa già che ci siamo no 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 non voglio provare l'altra mappa no Isa ma io non so giocare Gemmo ma chi se ne frega sarebbe stato divertente ma Isa guarda che la scorsa live che ho giocato io era la mia prima partita in assoluto se sono riuscito io a capire la PC è molto meglio sì tanto mamma mia al massimo voi siete i vastagli Alice e tu invece sei il clown no è l'intero circo scusate è il giullare di corte giurna clown bravo appena entra cosa si rimangia il codice lo butto in chat di Twitch sentite tanto mostrarlo buttarlo in chat in cambio almeno lo potete copiare fra cosa ritirata fuori mi raccomando ok io remember Zenite Zenite ho trovato una clip di lol che dove tu cercavi di diventare OTP sciacqua tipo nei meandri del mio pc come ecco quel virus Zenite ti vuoi diventare OTP qualsiasi cosa per me è scarto con tutto come funziona ooooh oggi è quanto fare la serata per flame si zitto stai con una lettera minuscola però si cabione cabione ah no c'è che manca bigfoot eh bigfoot mi sa che lo devi time fare a parte che ciccio viego è uno dei personaggi più scarsi che siano mai usciti vorraccio ma scherzi hanno ultima passiva fortissimi sì ma io ho giocato contro ma tu non giocavi top partiti quindi smettere di parlare di sì infatti ma io mai impostore le volte che non stremo sempre ciao bigfoot non ce l'ho hai il visual e non hai il visual mi fido di bigfoot bigfoot è lento dittichissimo nei movimenti io shields ciao cabione oh non sono io bene votiamo dado dove mad bay sopra lo scanner dove è mad bay al centro a sinistra esatto io posso dire di aver visto gemmo e fabione per cui loro non sono sono scappato 5 secondi da luca sì ho visto fabione alla fine poi c'era bigfoot andata a destra insieme a me io e izz eravamo in electrical e basta non ho incontrato nessun altro no io non ho incontrato nessuno ma stavo a destra all'inizio il mucchione dove c'è la testa da passare poi sono andato in basso a fare la benzina al centro in basso quindi insomma sì no anch'io non ho idea pizzo calabro ragazzi sto per morire è sempre bello come qualcuno mi voti vero squi ma che cazzo vuoi che ho schippato ma che problemi hai la coda di paglia brutto io sass ah ma c'è ancora la luce spenta merda tutti a riparare la luce che non viene a riparare la luce è il traditore nel senso che è Marco Fabione Artium ok Dado guarda a casa ah stiamo incasinando no io mi levo ok no fate fare ok squisi Dado qualcuno non è venuto ma Gemmo Gemmo non è venuto a riparare la luce uh c'ho anche l'upload Luca schippa sulla testa di screen chiudo pronto pronto ma c'ho quanta roba c'ho io qui scusate avevo anche visto tutto in electrical io di Fabione mi vorrei fidare ma io non mi fido squi 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 allora io di te mi fido ok c'è anche Marco e c'è Gemmo e Dado li vediamo tutti in nove alle luci easy double sì davvero c'era uno stack lì potremmo fare la stack kill e vedere chi era eh mi serviva qualcuno che mi vedesse Gemmo? dove è morto Gemmo? dove? non ho idea di come si chiama il posto comunque era in corridoio in basso non è Isa perché era con me allora aspetta corridoio era con me prima avevo non lo so mio perché era con me domanda con corridoio in basso ho visto fare task poi con corridoio in basso intendi da dove premi il pulsante sotto ma a destra o era in mezzo al corridoio? in mezzo al corridoio tra electrical e storage ah ok no 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 non suppongo era allora prendi storage in basso tra electrical e storage ma è morto anche Artium è morto anche Artium esatto è che io ero di fianco a Isa quando ha beccato il cadavere ah ok non riuscivo a cliccare per ne portare il cuore allora in quella zona io ho visto oltre a me Squeezie e Dado sì io sono passata sono scesa in lower engine a fare io ci ho ritrovato col mucchione con Luca Fabio e Marco poi siamo andati verso Weapons e poi io vi dico secondo me Dado non è perché è stato da solo per un po' di tempo con me potevo uccidermi tranquillamente ma me l'ho fatto poteva avere il cooldown anche Fabio potevano avere il cooldown ci sono due kill potevano entrambi avere il cooldown io sono andato due secondi da Isa perché l'ho vista arrivare di corsa e poi mi sono riavvicinato comunque ero da parte quindi eh no io sono andata lì però sono andata in lower engine ero lì col mucchione tra Luca Dado Marco alle luce eravamo alle luce eravamo tutti vale grazie vale grazie vale grazie grazie e quindi alle luce eravamo tutti noi tutti poi io sono scesa poi Giamo si è un attimo fermato in storage no non eravamo tutti posso assicurare che non eravamo tutti però uno che non c'era era proprio Giamo che è morto e l'altro mi pare fosse Bix no no aspetta aspetta Luca no perché noi eravamo tutti lì io poi sono sceso ho visto anche Giamo scendere però era dopo di me si è fermato io sono proseguita sono andata oltre poi evidentemente lui è tornato lì cioè è tornato nel corridoio sotto ed è stato ucciso lo hai visto un po' troppe volte Giamo squisi però mi pare stato tu lo dici così tanto ma siamo scesi insieme Luca schipperei siamo scesi insieme ma vabbè chi è che mi ha votato scusami ci sono due voti fra tutte due le persone e chi è che votava ogni volta allora che palle comunque tre voti a due persone due voti a tre persone no a vote jetted ti è ti è allora e in medley no è quello accanto a security oh e poi anche devi riallineare le cose spero di non avere gas perché è veramente una rottura squi io non mi fido di squi ciao doja comunque c'è lo chiamati non si è seguito questi discorsi eh eh ma vanno seguiti aspetta no non c'ho non c'ho le eh ma uh la porta chiusa che c'è isa della sas che non aveva premuto tutto perché c'erano le porte porte chiuse con isa dentro viva però scusate comunque sono normalmente io quello che spegne e uccide è questa la cosa bella però effettivamente per una volta non sono io no non è vero ho allineato ma la freccia mi manda giù perché è buggato alice ehi la dimmi alice è certo che sei bravissima a buttare giù le foglie senza farle uscire veramente dalla nave io lo sapevo me lo immaginavo no vabbè squiessi ragazzi non sapevo che ci fosse questo bug oh no io lo sapevo che la riposera vision yuri aveva ragione tutto il tempo vabbè ma ragazzi voi voi mi date addosso a caso sempre io non riesco mai a giocare a questi giochi comunque adesso vabbè squiutti ho votato sempre calcola mi date addosso a caso yuri yuri mi dice di votarti nel senso e vabbè ma che cosa io non riesco a giocare se fate così però yuri yuri dopo questo ma qui non è stato a caso e non hai fatto un visual dato ho appena detto che qui ho trollato che non è stato a caso ma prima continuate a darmi conto squiessi scusa un attimo gemo è morto gemo è morto e te tipo eh io ho incontrato gemo lì poi l'ho rincontrato lì ah poi era morto e cavolo nel senso se anche te ti rimballo 20 volte eh ma se te ti rimballo 20 volte gemo il sduppio viene potresti votare guarda non potete avere un alibi perché voi mi mi accusate sempre per cui state tutti zitti beh io mi prendo due voti a caso ogni volta che non ho fatto nulla mi accusate sempre io non riesco mai a giocare a questi giochi non giocherò mai più ad Among Us con voi mi ricordo quella partita eh Nildrik esatto anche tu mi hai intanto con la partita lì sempre io non gioco più con voi comunque puoi votare squiessi sono 40 secondi no questa volta Marco è stato bravo perché io non sapevo che ci fosse questa cosa se ti può consolare io non gioco mai quindi vabbè secondo me l'altro è dato anche tu sei uno di quelli che mi dice sei tu ogni volta che mi dico sei tu sei tu sempre non lo dico mai a caso ragazzi voi mi scioccate subito dai ogni volta che sono il cattivo c'ho scritto in pronte Marco è una persona non vada Alice nel golf ti sbocci sempre qui ti votano sempre per vendetta sì no vabbè c'è Wolfric allora mi sono mutato sì e non so volevo dire una cosa non la sono dimenticata siccome Yuri Yuri avevi ragione ora siccome abbiamo buttato fuori Alice sul tuo consiglio potresti 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 sai com'è sub di tier 2 anche di tier 3 se vuoi nel senso no ovviamente si si scherza mi diverto sempre a a scammare io non ho ancora fatto le carte ma davvero è tipo il il coso il io anche quella volta ti hanno chiesto se fossi metto ero risposto sì ti hanno buttato fuori quella cosa lì quella cosa lì è stata assurda non so seriamente come sia successo lì era da dagli orsetti beh come dagli orsetti che nel ok sono qui 4 5 4 6 4 Fabione che se ne frega ok Bigfoot veniva da di qua qui ingiustamente spulsa l'ho vista che si girava no ho finito io non ho veramente nulla è data visto che veniva è stata qua ragazzi posso esporvi i miei dubbi non so dove si è stato trovato il corpo però in alto sinistro ok ho visto passare Isa di lì esattamente Isa ma dove in caffetteria in alto sinistro siamo incrociati in caffetteria cioè la stanza con la centella dove si parte ok è rimasta un botte di tempo sopra una vent insicuro forse di come ci si entrasse non è vero accanto a lei se n'è andata no no assolutamente io stavo guardando la mappa perché non so dove minchia siano le cose io però ho incrociato le a sinistra secondo me Isa è un pochettino sasso io l'altro sasso che avevo era Luca ma perché sempre io perché sempre io io voterei Isa però non lo so fate come volete possono benissimo concedersi il voto è un voto un po' azzardato sì no più che altro perché è l'unica persona che era via però siamo quasi per finire le task quindi vabbè tant'ambito capiamo posso godere un pochino ma tanto ma tipo tanto e poi Marco perché te sospetti me scusa perché me non lo so era una cosa così assai ma guarda lì comunque non stavo guardando l'event stavo letteralmente guardando la mappa ah ok ho provato ad usare un event ma non so come funzioni sono entrata sono entrata e uscita dalla stessa sì no devi muoverti con le frecce ti muovi con le frecce ed esci su quella Alice mi hai ucciso da 10 km di distanza sei un infame perché io lo sapevo carità infatti io sono scappato subito quando sei ritornata indietro sei formato una io ho detto una bugia perché tu ti sei veramente fermato un attimo in storage ho detto boh vabbè vediamo vai scendo vai scendo comunque io esco e lascio il mio posto a qualcun altro esatto stavo per dirlo se qualcuno vuole entrare ci vediamo buona serata ciao grazie per essere stato qui ragazzi abbiamo un posto dai io ho rosso ho rosso ho rosso guarda 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 spesi che è pronta esce 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 non è più disponibile il rosso dov'è rosso gemmo mi raccomando server server nord america ciccio sono venite doi per favore non fare il bambino ciccio ciccio vieni vieni se vuole unis anche qualcun altro ruoterà io posso anche lasciare il posto volentieri no no isa isa esco io al massimo vede aspettate se c'è gente appunto si si guarda sappiamo se c'è gente ma non pezzo come devo entrare esco io tranquilli va bene marco si vai esci grazie di tutto c**o manana grazie di essere passata ricordatino la ciccio giallo per favore come non è che con i giochi di merda siamo così no vabbè parliamo di gioco di merda con among us del gioco del momento ancora ok no lol è il gioco del momento ciccio ciccio è perfetto no cos'è ciccio ma non sta parlando ciccio ma è qui ah ok ciao ciao ciccio ma ho visto ora la tua propic di discord ciccio dai andiamo andiamo vai 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 raccomando guardatevi quando è eccetera esco anzi benedio genio perché io ragazzi ho ucciso un genio uscendo fuori dalla venta in batman yes stavo facendo il tasco vabbè dopo yes ora mi parte il tasso è morto ho visto qui andare di qua ma dove ma dove lol mi hanno tipo spento le usci davanti no non possiamo andare a volare peccato ma ragazzi ma che cazzo l'ho visto corrida davanti a me hanno fatto una stack kill stavo qui in mezzo a noi che vuol dire una stack kill quando tutti quando tutti tanno in un posto nel senso in questo caso eravamo tutti davanti a light proprio tutti e uno uccide e non riesce a capire chi è quella persona chi c'era lì in mezzo eravamo io ciccio squigio io e alice io squigiamo e alice è uno di uno è di noi sicuro io squigiamo alice potresti aver killato e riportato sì sì vabbè certo potremmo averlo ma dov'era dov'era eravamo su luci stavamo riparando luci letteralmente chiudo luci vedo il sangue che schizza io sono arrivato e ho visto il corpo davanti a me sì sì eravamo tutti lì tutti vabbè quindi comunque i sospettati sono gemmo luca alice calma ci sono due traditori ricordate non è detto che noi eravamo in due in traditori uno dei sospettati è questo dico ma come alice qui hai detto quindi sono due sì hai ragione hai ragione quindi io voto alice giustamente ok va bene vabbè ragazzi è la probabilità di 2 su 4 mi futto come eri te che mi votavi sempre mi votavi io perché ti che ti sospettavo sì sì lo so eh mi futtora capisco perché che sapeva anche che ero safe il bastardo sì mi è uscito male mi è uscito quel noi bruttissimo sì sì vieni ciò si aspetta non so se fare luci o oxigen facciamo i best buddy together mi dispiace sì sì è artio abbiamo assistito una cosa molto strana con artio sì io posso giustificarmi con il telefono è una merda e volevo fare la la cosa di antificarmi dal fatto di essere un traditore alla merda avrei fatto almeno 15 click almeno ma il bello è che non mi faceva cioè non riuscivo a mettermi in mezzo perché con i comandi del telefono è una merda di conseguenza ci giravo intorno quindi sono scazzato e sono andato via è morto gemmo cazzo noi tutti a parlare di arte c'è un porto ma è morto gemmo non era secondo me comunque fabbiati è un po' sono i doppi i doppi fabbi possono solo per lui come i doppi fabbi hai chiamato l'emergenza i miti solo per arti o come fai ora scagionarlo no i doppi fabbino visto che io sono buono ok quindi lui ha fatto il vabbè dato che vuoi vabbè dato che scelta fabbi io ero con vabbè dato ero con te e il bianco ok sì è vero a un certo punto sarebbe Marco e Fabio ecco vabbè potrebbero benissimo essere Marco e Fabio sì anche secondo me ha visto Arti un po' confermare che ha fatto la scansione a me potevano ammazzare in qualsiasi momento visto se era uno dei due però è anche vero che poteva essere uno dei due non l'altro hai detto cocco cosa ho sentito c'è da finire il tasco qui no praticamente io ho avuto un culo assurdo lì grazie del follo cuffo uno e io li ho avuto appena qualcuno punta il dito di subito anche secondo me sì sì io devo uccidere Marco perché Marco è safe sono chiuse sì ok no merda mi faccio trovare a fare l'ossigeno è ciccio è ciccio perché l'ho visto sono sceso in shield lui veniva fuori dall'ultima stanza che c'è in basso e lì ho trovato il cadavere interessante ok io mi chiedo ma perché perché non vai a tutti cazzo vabbè niente qui c'è poco da dire quindi è ciccio è poco da dire sono uscito mi sono tratto in faccia io però voto voto aspetta però squisi squisi perfetto perfetto allora cuffo siccome ti piace tanto il 16 magari te lo moltiplico per un tot di numeri con un sacco di zeri tipo non so 1600 ciao e niente cazzo 1600 e niente sono già muto sì ok Luca la doppia all'inizio e ciccio ti assicuro no non più che altro quella quelle stack kill e avevo veramente tanta paura lì perché sto seguendo gemo io scusate in tutto ciò no non dovrei fare communication qua gemo eh guarda quella è stata è uscita veramente bene stranamente no facciamo gli altri call magari non vedo nel corpo e che ciccio ti odio l'ho chiamato dalle luci non ne ho nemmeno idea dove? ad avere alle telecamere eh l'ho visto perché sono andato a farmi simon 6 ed era ancora vivo quando sono tornato indietro perché sapete la questa dura tanto sono andato a vedere per andare alle telecamere e l'ho trovato all'incirca alla porta però non ho visto chi potrebbe essere passato o meno eh ok è anche il primo che avevo visto da di là eravamo andati io e qui sono abbastanza sicuro che ti abbiamo visto io mi ero fermato in madbay poi sono ho fatto per tornare in caffetteria mi hanno chiuso le porte esatto io avevo appena finito il madbay e poi sono andata verso l'ossigeno sotto il bottone che stanza c'è piccolina? eh admin 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 da lì puoi vedere le persone che ci sono nelle stanze sì no no da badbay puoi vedere le persone che ci sono nelle stanze no 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 da admin puoi vedere le persone che ci sono nelle stanze ah sì sì io ero chiuso quindi non potevo fare niente però ho visto che c'era qualcuno alle telecamere quindi posso confermare che era alle telecamere ok quindi chi era alle telecamere scusami qualcuno non so chi io non ero non hai visto il colore può essere stato Luca no io ero ero bloccato in in caffetteria mi avevano chiuso le porte i traditori quindi non potevo fare nulla avevo infatti voglia di morire e poi qualcuno dalla stanza centrale dove c'è il bottone è sparito ed è con passi in basso a destra ma l'hanno fatto in tempo vedere dove dalla stanza centrale del bottone sì stanza centrale io sono passato da lì sopra per andare in ossigeno la caffetteria però in ossigeno è in alto a destra non lo so non lo so perché rimaniamo in pochi raga no se sbagli il voto ora vince l'impostore quindi non so quanto convenga chi è che ha detto che ha visto che c'era qualcuno dalle telecamere eh no io ho beccato il corpo alle telecamere però ho visto soltanto entrare chi è morto non ho visto entrare dopo di lui perché quindi tu eri quindi tu eri alle telecamere no io sono andato dopo alle telecamere io a fare se non sei secondo me se te nel senso no secondo me Squi Squi io l'ho visto andare nella direzione delle telecamere tantissimo all'inizio no però tu mi dici che sei rimasto bloccato in caffetteria ero bloccato in caffetteria io sì Luca ero in ossigeno no te all'inizio sei andata di là l'ho visto tantissimo Squi te sei andata a sinistra che cazzo non sto capendo nulla amici fratta Roma foggia solo per amare io mi ero fidato di te sempre tra di noi sì 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 una roba per la chat se le regole ci sono scritte una volta prima di scrivere per la prima volta in chat una seconda volta perché te le spammano appena arrivi tu non le leggi ragazzi puoi chiedere scusa quanto vi pare c'è scritto nero su bianco a certo punto me ne frega un cazzo votato a caso sì anche secondo me Pingu hanno buttato letteralmente sotto lo streaming no più che altro sai cos'è Luca c'è scritto nell'info c'è scritto nella chatbox appena scrivi c'è scritto in chat perché te l'hanno scommato non è che arrivi qua senza avere niente nessuno vuoi che vai a giocare c'è cerchi il discord dove ci sono le persone che giocano apposta per questo cioè se noi stiamo mettendo su una roba del genere se cerchiamo ti diciamo di sì se no ti presenti ciao come stai siamo tutti diciamo di leucomi voglio dire soprattutto un mimo di educazione capito comunque comunque siamo sempre noi vuoi giocare qualcuno dalla chat se qualcuno vuole giocare se no si fa l'ultima ma io avevo detto che moltiplicare per cento era poco non dicevo no Pingu voglio giocare io esco no Artyom ha riportato il corpo dalle telecamere Fabione ha detto che Artyom era le telecamere però Artyom non aveva ancora detto che era le telecamere quando aveva portato il corpo quindi Fabione ha usato le telecamere in admin e quindi doveva essere per forza Luca il rinocente no potevi essere benissimo te ma infatti io e te ok era uno di noi due sono Artyom e Fabione dovevano scegliere o non votare perché a 4 è rischiosissimo votare se sbagli grazie per la spagna ma di più che altro ti sei fregato nel dirti eh sono stato il caffetteria sono stato bloccato no è vero cioè come fai a essere rimanere bloccato nella stanza principale dove c'è il bottone no 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 si possono chiudere le porte si possono chiudere le porte mi ha chiuso le porte Ciccio non è stato io no 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 è vero mi hanno chiuso davvero le porte in caffetteria io ero bloccato lì non potevo fare nulla quindi c'era qualcuno in caffetteria mi hanno chiuso in caffetteria vabbè ragazzi ci starta si 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 ciao Yuri ciao Buonanotte ciao Yuri ciao Yuri ciao ciao Yuri tutti muti speravo di fare il filotto io ora voto unicamente Ski ovviamente perché è così Fabio non sei muto ho sentito mutarsi così in onore di Yuri che se n'è andato c'è il taschino 2 perfetto 81452 81452 mi odia mi odia è ufficiale mi odia gemo gemo dai gemo gemo dai nessun rancore fra noi due no vero vai a trovare il mio coro per favore andiamo a fare task prima o poi troveranno il mio corpo quindi uno è Artyom che cazzo ovvio che vai a Oxygen quando cioè più che altro mi aspettavo no vai chiami Oxygen e vai a vedere dall'altro posto vedo un fantasmino in casa allora ok Marco e Artyom visto entrambi no non chiamarmi porca puttana Fabione no no zero due azze allora io l'unica cosa che posso dire è che sono stato un sacco di tempo con gemo e non mi ha uccisa allora io lì sono vista poco tempo fa come si chiama la stazza quella in basso o in mezzo dove c'è da fare tipo la benzina dove era il corpo eh già Fabio scusate ero mutato sto parlando da solo dicevo ero in electrical in alto a sinistra vicino alla ventola ok non è questa nessuna il più vicino era Dado però era fuori 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 la penultima la penultima persona che ho visto prima da lì c'è stata Eugenio però non ho visto dove andava quindi boh no Eugenio io ce l'ho avuto vicino un paio di volte e non mi ha fatto nulla l'ho visto caricare la benzina in basso io già me l'ho visto poi fare l'OEN Jire lì in basso probabilmente avrò messo la benzina lì e poi ho fatto le quest più che altro Eugenio Eugenio ah no no io Dado e Eugenio l'ho visti entrambi in electrical ma siamo usciti tutte e tre assieme quindi non so io ho visto solo Gem quindi non saprei proprio non lo so io ho visto Ciccio all'inizio ma proprio inizio e poi ho visto forse ai motori e nient'altro io ho visto Ciccio però poi ho fatto un giro della miseria non ho visto nessun altro vabbè dai io ho schippato ragazzi io ho anche non ha senso grazie giustamente me e chi è l'altro che è morto a Scri ciao Scri no ma non è Eugenio siamo fusi benissimo ah ma credo stia facendo un task no non dimentichavo Mepi potevo scagionarmi e che cazzo qualcuno muore tra tre due uno qualcuno è morto secondo me guardaci che facciamo i task come di prima i fantasmi Gemmo lol quanto rischioso se Artem uccideva Gemmo e Artem mi sa che va a premere il pulsante e la butta in culo a Gemmo ha senso fare un task ora di nuovo questo task tra l'altro si non ha chiamato il pulsante ok mi aspettavo che Artem provasse a incolpare Gemmo io lo talisce morti al primo turno è vero è vero niente too fast too fast quella era bad read però va bene ce l'ho fatta in tempo e vedi che Gemmo era poveraccio dove dove è morto Gemmo è morto Gemmo ad electrical e l'ultimo che ho visto prima di entrare electrical era Eugenio stavo facendo benzina ero passato sotto e poi sono andato a fare direttamente benzina sono entrato un attimino electrical anzi stavo vedendo le tasche però ho visto che non c'era niente e sono ritornato a benzina a fare la benzina e io ho visto soltanto Eugenio e poi ho visto comunque Eugenio anche prima era vicino a Alice l'ultima volta beh pure te eri vicino a Alice pure Ciccio era vicino a Alice non lo so io posso posso dire di aver visto soltanto lui perché sono passato da sì è vero quello che dice alla benzina io ero in alto a sinistra dove c'è la roba da lineare upper engine e non so come sì dove c'è il motore il corpo dove è stato trovato? in electrical io e Fabio abbiamo fatto tutta la parte sotto sì esatto e noi non l'abbiamo visto nessuno penso vorrei dire una cazzata e non c'era il corpo io sospetto un po' genio però non ho ancora sospetti tale da dire è vero è vero cioè io lo so l'ho visto per un attimo cioè posso avere il sospetto perché era nella stanza accanto per un secondo non l'ho visto perché ho tirato dritto da per electrical sono tornato indietro e sono entrato in electrical per fare la quest e ho trovato il body io l'unica persona che ho incrociato è stata Fabio cioè Artyom e nessun altro quindi non posso neanche dire nessun altro vabbè schifiamola allora sono già tre morti eh si schifpa non ho visto nessun altro da dare la colpa a Eugenio al 100% però diciamo che un po' il sospetto ce l'ho tutto qui io non ne ho idea raga e run mi è uscito poveraccio nel senso se a socialmente si tanto ma più che altro nessuno sta sospettando di loro ciao Digo ciao oh non ho il focus sul gioco vediamo di finire task e poi si segue Artyom a vita più che altro Gemma l'avevo visto tantissimo che stava venendo seguito da cioè più che altro Artyom aveva trovato Gemma da solo era Marco l'altro si questa che è Marco eh Marco aspetta non volevo ciccio muore quanto è palese che è Marco che non lo sta facendo dai 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 Dado not present no Dado io che sto streamando stavolta Dado sta giocando ma con Among Us con il fatto che ci si deve mutare aspetta ora lo cerco qua in alto a sinistra ragazzi c'era di nuovo Genio lì vicino al corpo l'ultima persona che ho visto io non ci posso fare nulla innanzitutto dove hai trovato il corpo io ho visto dove c'era l'emergenza adesso in Oxygen si in Oxygen ma era andato a Navigation l'ultima volta che ti ho visto io ti ho visto entrare in Oxygen insieme a me poi se è finita l'emergenza non lo so io sono andato io posso dire aspetta aspetta dove sei andato Genio sono andato in storage ho già incontrato sia Marco che Fabio no prima vi hai detto che eri andato notteran io non ti ho venuto in storage Eugenio non ci sono mai stato io in storage ragazzi io sono andato in storage e prima aveva detto Navigation insomma c'ero io e lui non c'era ma non è un genio se fosse passato davanti l'avrei visto secondo me è un genio però ok una cosa i task sono condivisi no solo l'allarme credo che intende con condivisi non lo so comunque Anna ha appena vinto Marco e Artyom chi che mi ha votato scusate eh niente Anna ha appena vinto eh sì eh genio povera io non so come ci sei finito in mezzo te qua ma c'ha l'animaletto tutto lì sciancato e Artyom si uccide Dado chi si ucciderà prima Artyom Dado o Marco non so chi ma perché Artyom mi fa anche una kill dato che si salva dato che aiuto dato che sono andato incontro alla morte letteralmente dato che è in mezzo ai due traditori vi basta fare una kill mi basta davvero fare una kill oh Eugenio perché eri sempre vicino ai cadavoli povero Eugenio mamma mia sempre vicino ai cadavoli ve ne vado vicino E come la signora Fletcher Eugenio sei la signora Fletcher povero Eugenio Fletcher a me mi dispiace però cazzo siete praticamente uccisi da soli tutti quanti esatto fortunati eventi il fatto è che praticamente io ho incontrato Marco quindi sono un progetto di no bastardo cosa è quella cosa cosa scusa Eugenio però cazzo state tutti su cazzo andatemi a cagare Artyom che mi ha ucciso all'inizio nessuno ha mai trovato del corpo io vi disprezzo un lavoro mi stavo cagando ad osso non vi dico dall'ansia penso che hai fatto la mia prima partita di impostore benissimo Marco non ha detto una parola tutta la partita in effetti potessi quando mi ha ucciso te lo giuro non me lo aspettavo è stato veramente un tradimento ho pianto ho proprio pianto io invece me lo aspettavo benissimo di Marco perché mi stava seguendo e quindi ho detto killami killami mi ha killato e infatti gli ho scritto disappointed but not surprised io prima gli ho scritto una cosa che non posso riferire se la volete leggere sta sul gruppo dei sub è nel gruppo dei sub che ora abbiamo io non ho detto niente perché non so davvero cosa dire se vi accusavate tutti i genitori e io l'ho lì per me guardavo ma la cosa bella sono state le kill che sono riuscito a fare con il vicino Marco perché era un capo espiatorio da morire perché potevo inculpare lui potevo inculpare ma c'era qualcuno mi sono chiacato poi ho visto che il video ho fatto ah vabbè sti cazzi ditemi il numero 42 ok time out artium è la giusta polizia comunque va bene ragazzi di serve si io vi ringrazio ti senti a restare passati grazie a quelli che hanno partecipato grazie a voi ragazzi grazie mille per i follow grazie mille ai sub che hanno partecipato siete veramente grazie a voi inizio un po' bled la live si però la speriamo che avessero smontato l'avete salvato appieno l'avete salvato poi capita non è colpa vostra se un gioco diventa una merda comunque da chi c'è? i gli orsetti i gli orsetti allora ci va dai orsetti sì 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 anche gli orsetti fan among us nice perfetto chi è italiano xd vabbè tanto sai che sono gli orsetti i gli orsetti è un orsetto che non conosciamo però Alice eh sta raggando comunque ho giocato con voi mi ha divertito un sacco di amici grazie sa grazie eh stai raggando tanto amici comunque ok andiamo 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 si dice pistolino sasso pistolino sasso pistolino sasso era l'amico di prima dei 1600 secondi sì sì comunque ragazzi ciao ciao tranquilla per essere passati noi ci si vede domani ciao 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 a tutti